Oggi parliamo di moto parabolico, oppure anche, se volete, di moto del proiettile, che poi è la stessa cosa. Quindi vi faccio un attimo vedere di che cosa stiamo parlando e quali sono le formule principali che vi possono servire per fare gli esercizi. Ciao carissimi, bentornati di nuovo su Zero G. Sì, allora, oggi vi dicevo parliamo di moto parabolico, oppure di moto del proiettile, che poi di fatto è la stessa cosa. Ci tengo subito a dirvi che quando si parla di moto del proiettile, non dovete sempre immaginarvi il proiettile inteso come la, come si chiama, la capsula che esce fuori. Non si chiama capsula, si chiama il bussolotto. Vabbè, insomma, non vi viene il termine giusto, ma insomma, quello che esce dalle pistole, fondamentalmente. Perché normalmente, in italiano, quando uno parla di proiettile, pensa a quella cosa lì, cioè a quello che sparano le pistole o i fucili. Che quelli sono anche i proiettili della fisica, ma in realtà in fisica, in generale, si parla di proiettile quando voi prendete un oggetto, qualunque cosa essa sia, e la lanciate. E vedete che questo oggetto, praticamente, mentre vola, fa un moto parabolico. Quindi, se voi tirate un calcio ad un pallone, quello, nel momento in cui vola e fa la sua traiettoria parabolica, è diventato un proiettile. Se voi prendete un bicchiere e lo lanciate, non so perché dobbiate farlo, ma, insomma, se lo lanciate diventa un proiettile. E via, così, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi oggetti, quando voi li lanciate, praticamente, in aria, con una certa inclinazione, quello che vi pare, eseguono una particolare traiettoria in aria che è proprio una parabola. Quindi, se voi andate ad analizzare matematicamente qual è proprio la forma esatta della traiettoria di un oggetto lanciato, scoprite che non è semplicemente una cosa fatta così, un pochino a campana, o che assomiglia vagamente alla parabola, se avete già, l'avete magari anche vista in matematica, ma è veramente proprio una curva che può essere descritta dall'equazione di una parabola esattamente precisa. Ma il punto è, da dove riviene fuori quel tipo di moto? E come facciamo a descriverlo, poi, anche a livello tecnico, nel momento in cui vogliamo fare dei calcoli, per cercare, magari, di sapere quanto può andare lontano un oggetto se l'abbiamo lanciato con una certa velocità, o quanto può salire in alto prima di cominciare, invece, a scendere, eccetera, eccetera. Allora, il moto parabolico, il moto del proiettile, funziona fondamentalmente così. Cioè, dovete comporre due moti. Uno lungo l'asse orizzontale, quindi, normalmente, lungo l'asse delle X, se pensate al piano cartesiano, e l'altro, invece, in verticale, quindi, diciamo, lungo l'asse delle Y. Questi due moti, che, tecnicamente, se siete arrivati fino a questo argomento, li avete già fatti, sono due moti che conoscete già, perché lungo un'asse avete il moto rettilineo uniforme, e lungo l'altro asse, invece, avete un moto uniformemente accelerato. Questi due moti, assieme, lungo i due assi, danno come risultato quel moto parabolico che andiamo a descrivere adesso. Quindi, l'idea è, cominciamo a concentrare l'attenzione di quello che succede quando l'oggetto si muove, fa la sua traiettoria parabolica in aria, ma guardate soltanto, cioè, fate lo sforzo di guardare il movimento di questo oggetto soltanto in orizzontale, come se voi stesse seguendo, tipo, l'ombra proiettata sul prato dal pallone che fa la sua traiettoria parabolica quando qualcuno gli tira un calcio, ok? Immaginate di seguire l'ombra. Quell'ombra per terra, in realtà, come si sta muovendo lungo l'asse orizzontale? Beh, si sta muovendo a velocità costante e in linea retta, perché se ci pensate, non provate veramente a immaginare l'ombra di un pallone mentre descrive la sua traiettoria in aria, davvero la sua ombra viaggia in linea retta, cioè non fa strane curve e robe di questo genere qua, e si sposta soprattutto a velocità costante. Quindi quello è un moto rettilineo uniforme. E allora vuol dire che... scusatevi se mi si è andato in... mi si era buiato lo schermo. Allora, vuol dire che lungo l'asse delle x, come vi ho scritto qua, voi avete una legge che vi descrive praticamente come cambia lo spazio nel tempo, che era la vecchia legge oraria che da qualche parte dovreste avere già fatto per il moto rettilineo uniforme, che era di solitamente fatta così. Cioè x, che è lo spazio percorso, è uguale a x0, che era eventualmente, se c'è, un eventuale spazio iniziale, qui un tot di metri, da cui poi magari l'oggetto parte, eccetera, che però avevate già rispetto ad un altro punto che voi fissate come lo 0. Sapete che lo 0, nel punto d'inizio, dove uno comincia a calcolare i metri, può essere fissato in maniera arbitraria dove uno vuole, dove ritiene che sia più adatto, più sensato, più comodo, più utile, ok, arbitrario, te lo puoi scegliere. Quindi a volte hai uno spazio iniziale perché se lo 0 è qui, tu magari cominci da qua e quindi cominci un tot di metri più avanti. Se non ci dovesse essere, questo è il classico personaggio che poi barri perché fa 0 e lo levi. Dall'altra parte invece che cosa avete? Avete la velocità, v0, per il tempo. Però attenzione alla velocità, perché io ve l'ho scritta in una maniera tattica, che è tipo v0 e poi ho aggiunto una x. Allora, intanto con v0, dovreste essere abituati su questo fatto, si indica la velocità iniziale, quindi la velocità con cui il pallone, la pallina da tennis, il bicchiere che avete lanciato qualcuno, non so perché, che ne so io, la velocità iniziale, ok? v0. Ma v0x rappresenta soltanto la componente della velocità iniziale lungo l'asse delle x. Il che significa? Che se voi lanciate un pallone, per esempio, con una velocità iniziale in diagonale così, voi non dovete utilizzare questa velocità diagonale qua dentro, ma dovete utilizzare la sua proiezione in orizzontale qua sotto, quindi la componente orizzontale. Quindi bisognerà usare delle formuline con seno e coseno che poi magari vi recupero di nuovo dopo, ok? Quindi questa è la componente orizzontale della velocità iniziale, ok? E ci sta, perché se state facendo una legge lungo l'asse delle x, anche la velocità deve essere soltanto quella lungo l'asse delle x, no? Dai, ha senso. Quindi, in orizzontale, moto rettilineo uniforme, legge oraria del moto rettilineo uniforme. E fin qua, andiamo. Cosa succede invece lungo l'asse delle y, quindi in verticale? Beh, in verticale, se voi guardate, immaginate di osservare il movimento di un pallone soltanto badando a che cosa fa in verticale, beh, magari voi lo lanciate, così un po' diagonale, lo vedete salire, rallentare in cima e poi cominciare ad accelerare verso il basso. Cioè sta facendo caduta dei gravi, ok? Caduta dei gravi, che era una cosa che in teoria, se siete arrivati qua, dovreste aver già fatto, ed era un moto rettilineo uniformemente accelerato verso il basso, dove in particolare l'accelerazione che avete verso il basso è proprio l'accelerazione di gravità terrestre, quindi quella che di solito si chiamava G. E io qua vi ho riportato quindi la legge oraria per il moto rettilineo uniformemente accelerato, in particolare proprio per la caduta dei gravi, che dovrebbe essere anche, spero di non aver sbagliato, la stessa legge che ho già utilizzato anch'io in altri video precedenti che sono già disponibili sul mio canale, proprio dedicati alla caduta dei gravi. E come vedete ho utilizzato quella legge dei caduta dei gravi dove lo spazio però l'ho chiamato y, non visto che adesso ci stiamo muovendo lungo l'asse delle y, quindi stiamo focalizzando l'attenzione su che cosa succede lungo quell'asse. Quindi voi avete la classica formuletta che da qualche parte dovreste aver già visto, quindi meno un mezzo accelerazione di gravità per tempo al quadrato, più, e questa come vedete qua, vedete la controparte, no? Lungo l'asse delle y di quello che era V0x nella formula precedente, cioè prima voi avevate lungo l'asse x la componente della velocità iniziale in orizzontale. E adesso che cosa avete? Avete la componente della velocità in verticale, quindi se voi lanciate un pallone così, quello a cui dovete badare è la componente verticale, quella che sta qua, ok? Positiva se diretta verso l'alto, negativa se diretta verso il basso, perché potrebbe pure essere negativa. y0 è un'eventuale, ma magari anche no, dipende dagli esercizi, altezza iniziale da cui partite. Quindi io potrei decidere che magari lancio una cosa a questa altezza qua, se lo 0 è il bancone, allora l'oggetto che ho in mano parte già da una certa altezza iniziale, quella sarà per me la y0, ok? Però, al di là di tutto questo, insomma, legge della caduta dei gravi, riadattata forse con questa componente, che nella caduta dei gravi, se l'avete già fatta magari poco tempo fa, non avevate esattamente scritta, credo, in questo modo qui, ok? Quindi l'idea adesso qual è? È che noi sappiamo come si muove in orizzontale, sappiamo come si muove in verticale, e ora diciamo che il risultato di queste due cose, se voi le mettete assieme, cioè tecnicamente, se voi mettete a sistema queste due equazioni, avete fondamentalmente le formule utili che vi servono per risolvere gli esercizi sul moto parabolico, quindi voi state mettendo assieme, state facendo funzionare assieme due leggi, una che ti descrive il moto in orizzontale, l'altra che ti descrive il moto in verticale, mettila assieme, combina l'assieme, utilizzale in simbiosi, in qualche modo, che vuol dire fai un sistema, e otterrai tutto quello che vuoi per risolvere il tuo esercizio sul moto parabolico, quindi io tendenzialmente, per esempio, vi dico questa strategia, no? Ho sempre fatto così, fino a quando andavo al liceo, facevo queste cose a 16 anni, facevo di solito così, cioè quando avevo un esercizio di moto parabolico, la prima cosa è graffa, e piazzavo subito queste due formule nel sistema, subito, poi le guardavo in faccia e dicevo, ok, che cos'ho, che cosa non ho, cosa devo trovare, e cominciavo a smanettare con le formule, ma io partivo comunque, sempre, come base, da questo sistema qua, cioè questo era il mio modo per entrare nell'esercizio, no? Cioè, magari non ho capito niente di quello che c'è scritto, ma so che devo scrivere questo dannatissimo sistema, che tanto è sempre scritto così, scrivilo, ok? C'è poco da fare. Va bene, ok? Quindi si parte da qua. Fondamentalmente, allora, per riassumere, moto parabolico, barra moto delle proietti, la stessa roba, che cosa fa? E' solo un mettere assieme, in teoria, due argomenti precedenti che voi dovreste aver già visto. Quindi, tecnicamente, non si tratta di una roba completamente nuova, cioè non è che ci sia molto da imparare di più. Poi, ovviamente, ci sono delle parti dedicate al moto parabolico, non so, mi viene in mente l'altezza massima, eh, la gittata, eh, che ne so io, poi, datemi tempo, vi produrrò magari degli altri video per aiutarvi anche a fare degli esercizi un po' più specifici, eccetera, però, fondamentalmente, si tratta di mettere assieme due robe che si conoscono già. Che non è male, ok? Perché finché ricicli, roba che sai già, non è male, no? Il riciclo ci piace, per tanti motivi, ok? Dal riciclo della plastica, al riciclo dei concetti già studiati. Dovrei aver scritto un'altra cosa, ecco, ok, perfetto. Ecco, allora, vi ho provato a fare un disegnino per cercare di spiegarvi magari un po' meglio quello che stavo cercando di dirvi prima. Allora, immaginate quindi di avere, per esempio, un cannone che spara... Si capisce che è un cannone, sì? Eh, questa è la... Non mi vengono i nomi oggi, dai, avete capito, insomma. Allora, c'è il cannone che spara la... la pallazza. E la pallazza ti parte, quindi, con una velocità iniziale, questa v0 così, diagonale, inclinata rispetto all'orizzontale, con un certo angolo. Allora, nelle formule v0, cioè la velocità iniziale, quella che nel mio disegno sarebbe il vettore diagonale, non ti serve, di per sé. Perché a te non serve la velocità diagonale, a te servono le due componenti. Cioè, la componente in orizzontale, v0x, è, da mettere nella formula, quella della x, e l'altra componente verticale, v0y, che è quella che devi andare a mettere nell'altra formula, quella per la y, quindi per il moto in verticale. A te servono queste due componenti, ma di solito, l'esercizio non ti dà le due componenti, ti dà la velocità in diagonale. Quindi la domanda è, come fai tu a trovare le due componenti, visto che nelle formule, quello devi mettere? E allora ti fai le scomposizioni dei vettori. Allora, normalmente, di solito, nei problemi uno ti dà sempre l'angolo di, inclinazione della velocità rispetto all'orizzontale, quindi come nel mio disegno, quell'angolo alfa lì, no? Che vi dà proprio l'elevazione del vettore rispetto al terreno, diciamo. E tu, una volta che conosci la velocità iniziale, una volta che conosci anche l'angolo, che cosa fai? Beh, ti fai le formuline, queste qua, cioè ti fai la scomposizione del vettore, e ti usi le formuline di seno e coseno, che da qualche parte, anche qui spero abbiate già visto, e se no ve le sto facendo vedere, così ve le segnate, e quindi tu che cosa fai? Ti prendi un attimo di pazienza, ti calcoli la componente x e la componente y, sfruttando questa roba qua, quando ce l'hai, sei pronto per sostituire quei valori nelle formule del sistemone gigante che vi ho fatto vedere, che vi ho fatto vedere prima, e quindi, v0y la piazzi qua, e v0x la piazzi qua, delle formule, delle formule precedenti, quindi questo è il gioco, quindi diciamo che queste, se volete, sono un po' delle formule bonus, no? Da aggiungere al sistemone, per cercare di chiudere un po' il circolo delle formule principali, che vi permettono di andare un po' dappertutto, ovviamente, a patto che siate anche un po' buoni voi, a saper maneggiare le formule, cosa che comunque vi consiglio sempre di fare, perché più sei bravo, sei capace, a gestire le formule, facendo tutte le formule inverse, i ribaltamenti, il prendo una lettera di qua e la butto di là, vai, 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 se tu amministri questa roba, più te la giochi te, meno roba hai da imparare, di formule già confezionate, già pronte, ok? Io non c'ho mai, mai, mai voglia, e ve lo dico proprio quasi con cattiveria, di imparare le robe in memoria, da quando andavo all'elementare, la gente cercava di farmi imparare le poesie in memoria, ok? Io ho cominciato ad odiare quella roba, tipo a sette anni, e continuo a didiarla anche adesso, circa trent'anni dopo, ok? Perché proprio non la sopporto, quindi se una roba la posso fare da me, me la faccio da solo, perché studiare a memoria mi fa schifo proprio, va bene? Quindi vi invito sempre a imparare a gestire le formule inverse. Bom, io direi che col moto parabolico ci siamo, quindi ho cercato di dirvi che cos'era e quali possono essere le formule. Ora, provate un po' voi a fare degli esercizi e io poi col tempo cercherò di farvi vedere magari delle situazioni un po' particolari, con la partenza in orizzontale, ma insomma ci sono tante situazioni. Mi impegno e cercherò di farvele vedere. Quindi, vi raccomando, seguite sempre Zero G, magari vi iscrivete al canale, così rimanete aggiornati sulle novità e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ciao!